Presidente Carli, adesso a bocce ferme, raduno di vera ed epoca concluso, un bilancio positivo ovviamente a parte uno spiacevole incidente che ci è ben noto in me e per il quale possiamo solo fare i milioni di auguri di pronta guarigione a Sergio, a tutti i familiari. Ragionando però di vera ed epoca, di Panerai main sponsor, possiamo guardare con serenità al futuro? Allora, non abbiamo ovviamente ancora firmato nulla per cui bisogna stare un po' con le dita incrociate, però ovviamente la tappa d'Imperia Panerai vuole che rimanga all'interno del circuito e quindi per noi questo è un segnale molto importante che premia lo sforzo e il nostro lavoro. Sicuramente la vicinanza che abbiamo avuto da tutti gli armatori a premiare la grande regata, da questi quattro giorni fantastici che ci ha regalato queste regate in mare, segnano che Imperia è sempre più un posto di mare e le vele d'epoca sono un'idea vincente di grande successo. Quindi insomma incontrerete i responsabili di Panerai entro breve? Entro breve, sì, l'idea è quella nel mese di ottobre, massimo novembre, prima della fine dell'anno, ovviamente per noi si parlerà poi di 2016, per cui abbiamo tutto il tempo per perfezionare un po' tutte le carte e la situazione, però appunto la volontà è quella di continuare. L'altra cosa invece è cercare di tenere a bordo i nuovi sponsor arrivati, Jeep, Conica Minolta, Gastra sono rimasti affascinati da questo mondo, Conica Minolta non si era mai vicinato al mondo della vela, è rimasto veramente straordinariamente impressionato e vuole rimanere con noi anche in futuro, Jeep sta già pensando veramente alla prossima edizione, quindi direi che abbiamo fatto un bellissimo lavoro, Gastra sicuramente quest'anno era una fase di prova con la parte appunto di t-shirt che hanno creato sull'evento vele d'epoca, la prossima dovrà essere invece l'edizione costruttiva che insieme faremo un progetto dove possa nascere veramente anche un futuro per tutta la parte di merchandising che Assonautica e vele d'epoca possono fare intorno a questo ormai prestigioso marchio che è un marchio famoso in tutto il mondo.